www.redigio.it e la storia continua Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei I roghi delle vanità Bernardino da Siena, Giacomo dalla Marca, Giovanni da Capestrano, Roberto Caracciolo da Lecce, Bernardino da Feltre hanno speso infocate parole per convincere della anti-economicità dell'investimento in vesti e ornamenti e hanno acceso veri e propri fuochi, i falò della vanità per bruciare le tentanti bellurie che rischiavano di precipitare uomini e donne nelle fiamme dell'inferno Anti-economicità, si diceva non solo per la vacuità dell'investimento nelle vanità terrene ma anche per l'occasione persa di far circolare il denaro impiegandolo in traffici e commerci anziché tenerlo morto immobilizzato cioè in vesti e gioielli di valore il fatto è che, a ben vedere non erano affatti morti i denari investiti in simili oggetti che circolavano senza posa davano lavoro a molte persone e alimentavano commerci resta comunque la tenacia degli sforzi compiuti dai predicatori per limitare il pompe e vanità e la costanza della produzione di leggi suntuarie da parte delle autorità cittadine la ripetizione è certo indice del mancato raggiungimento dell'obiettivo ma anche della necessità avvertita per secoli di invadere uno spazio che oggi giudichiamo privato regole e regole ancora regole hanno inseguito per secoli uomini e donne nelle loro case nelle stanze più private anche al momento di indossare un farsetto o di ornarsi con un vezzo di perle leggi e gusti regole e mercato si sono scontrati in fatto di vesti la lotta è stata lunga e il risultato è sotto agli occhi di tutti la piramide del peccato e se le parole non bastavano a contenere le vanità non restava che passare ai fatti e le autorità civili presero a cominare multe e a ordinare sequestri mentre i predicatori ebbero l'idea di accompagnare i loro vibranti sermoni con lingua di fuoco le pire della vanità Giovanni da Capestrano a Noa Rimberga diede alle fiamme ben sei carri di cose futili e lo stesso fece a Erfurt a Magdeburgo a Breslavia a Bamberga anche Bernardino da Siena fece ricorso a questo mezzo dotato di grande scenità e di potente valore catartico a Perugia nel 1425 e a Firenze nel 1434 promosse altrettante roghi una sessantina d'anni più tardi Bernardino da Feltre ne accese uno analogo sempre a Firenze dove Girolamo Savonarola ne organizzò a sua volta ben due che ebbero luogo rispettivamente il 7 febbraio 1497 e il 27 febbraio dell'anno successivo quanto a Bernardino da Feltre ne organizzò una Modena nella piazza principale nel 1486 e di lì a poco un altro a Perugia seguiti l'anno successivo da quelli di Spoleto Revele Mantua e Parma il rogo del 1497 voluto dal Savonarola è così descritto nella cronachistica cueva quando la processione giunse in piazza trovò una grande piramide ottagonale a altra 30 braccia e di oltre 100 braccia di perimetro era costituita da tanti gradini quanto i peccati capitali cioè 7 e sopra di essi si trovavano disposte tutte le vanità raccolte nel carnevale a un segno convenuto quattro persone appiccarono il fuoco ai quattro angoli della larga base e subito si elevarono alte fiamme mentre si diffondevano i rintocchi delle campane del palazzo della signoria e l'abito che fa la differenza la normativa suntuaria bolognese emanata dal cardinale legato Bessarione nel 1453 suddivideva la popolazione in sei categorie la prima era costituita da cavalieri la seconda dai dottori in legge medicina la terza dei nobili comprendeva quanti da almeno 30 anni non esercitavano arti manuali o erano iscritti alle corporazioni notai dei cambiatori dei drappieri o dell'arte della seta la quarta categoria includeva gli appartenenti alle arti dei beccai degli speziali e lanaioli stracciaioli merciai dei bombasari e degli orefici mentre nella quinta facevano parte i lavoratori delle altre arti fino ad arrivare all'ultima categoria costituita dagli abitanti del contado alle donne della categoria più elevata era concessa una veste di cremisino panno fino color rosso acceso una seconda veste di velluto differente un lucco lunga e sovra veste di cremisino o di panno rosato o un'altra veste di panno rosato lo strascico consentito era di due terzi di braccio circa 40 centimetri le donne dei dottori avevano una dotazione più scarsa una veste di velluto cremisino o di velluto di altro colore un'altra di panno di grana un lucco di velluto non cremisino e un guardacuore di seta lo strascico poteva essere al più di mezzo braccio alle donne della categoria che seguiva erano preclusi il lucco di seta e la veste di cremisino al posto della quale potevano avere un lucco dello stesso tessuto le donne della quarta categoria potevano possedere una veste di velluto non cremisino e una seconda di panno mentre quella della categoria inferiore si dovevano accontentare di una sola veste di panno rosato a nessuna donna del contado era lecito indossare vesti o ornamenti di seta né panni di grana e tanto meno capi di tessuto cremisino www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it